Icaro Volley è offerto da Appiustudio Archigest Consorziologica Bike Service Cibe Clinica Nuova Ricerca Consulta Emporio Gastronomico e Coconuts Erbavita Gruppo Markar Isolcasa Italia De Pura Lasersoft Lo Zodiaco Frontemare Locatop Misano World Circuit Onoranze Funebri Cappelli Osteria La Cappannina e La Tramonteria Qui si sana Ristorante La Cappa SGR Luce e Gas Rose & Crown Rose & Crown Amici sportivi di Icaro TV, buonasera, bentornati a Icaro Volley, come ogni martedì insieme per commentare la pallavolo della Romagna. È una puntata speciale questa sera, anche perché è la ventiseiesima e ultima di questa stagione in attesa di un recap eventuale per i play-off di cui vi terremo aggiornati. Ultima puntata, saremo in onda come sempre per circa un'ora per parlare dei temi pallavolistici anche in proiezione futura, dato che ormai siamo a fine stagione. Saluto e ritrovo Federica Pappacena. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, bentornata, tutto bene? Sì, 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 sì. Era un po' impegnata tra gite e varie cose. Sempre di corsa. Allora, abbiamo un grande parterre questa sera, potremmo intitolare la serata dei dirigenti. È vero, delle persone che contano veramente. Delle persone che contano veramente. Quindi lascio a te presentare il palco. Allora, abbiamo qui in studio, come tutti i martedì, Francesco Barone, giornalista del Ponte e Corriere di Romagna. Buonasera a tutti. Bentornato, Francesco. Abbiamo dei ritorni. Sì. Claudio Botteghi, coach della Prime Cleaning Riccione Maschile. Buonasera. Bentornato, Claudio. Grazie. Un ritorno anche qui, Sanzio Sacchetti, direttore sportivo di Riccione Volley. Buonasera a tutti. Buonasera, Sanzio. Abbiamo le persone che contano. Che contano? Mica come me. Poi abbiamo una sedia vuota, ma è proprio lì che ci sta... È lì, lì, lì. È dietro le quinte. È dietro le quinte che sta entrando. Quindi, invece, salutiamo Cristiano Vitali, il mio presidente dell'Atena Volley Rimini. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. E un nuovo, un ritorno, un nuovo ritorno. Alessandro Zanchi, vice allenatore dell'OMAG MT, allenatore e coordinatore Unica Volley, chi più ne ha più ne metta. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci sono la rosa, insomma, il roster della nuova stagione è quasi completato. Abbiamo citato già nuovi arrivi. C'è Sofia Valoppi, giusto se non ho sbagliato il nome, oltre a Cecilia Nicolini, Anna Piovesan. Quindi, Francesco, facciamo un recap di un roster quasi completato con questi due nuovi innesti, no? Sì, l'ultimo arrivo è quello di Sofia Valoppi, che è libero classe 2003, è stato davvero un colpo gobbo del presidente Manconi, perché su Sofia davvero c'erano tante squadre, non solo di Serie A2, ma anche di Serie A1. libero titolare di Roma, che è arrivata addirittura da neopromossa ai play-off, poi è stata eliminata da Conegliano, che in questo momento è 1-1 con Scandici nella finale Scudetto. È un libero giovane, ma molto, molto brava, tanto è vero che sarà proprio con l'altra via arrivata anch'essa adesso. Anna Piovesan con la nazionale Under 22, i prossimi campionati europei che si giocheranno a Lecce. Diciamo che il roster, almeno nel sestetto titolare, è completato, partendo dal presupposto che manca solo l'ufficialità, ma credo che Serena Ortolani rimanga a San Giovanni in Marignano, e quindi da adesso in avanti si penserà a completare la panchina, perché quest'anno si è capito che anche la panchina ha un ruolo fondamentale, visto tutto quello che è capitato a San Giovanni. Bene, allora a proposito di OMAG MT, vogliamo aprire in una maniera un po' particolare, perché oggi ci ha trasmesso poi Francesco questo bellissimo video, questo contributo, questa clip, come si dice, in gergo, che riassume un po' anche la stagione dell'OMAG MT. Ve la facciamo vedere, saranno un po' di immagini, un po' soprattutto di frasi molto belle, e poi torniamo in studio. Grazie a tutti. 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 Matteo Ronchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi vedevo tutti. Grazie a 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 tutti. Claudio, a tutti. Allora, sconfitta. Allora, sconfitta. non sono contento. grazie a tutti. 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 due o tre errori finali degli insospettabili. Quindi, perché in quel momento poi c'erano anche tutti gli effettivi in campo. L'ultimo set l'abbiamo perso di poco, ma siamo partiti sotto di 7-8 punti, quindi lì era già un miracolo che sulle battute finali eravamo tornati a ridosso, quindi... Certo. Sanzio, presidente, una prime cleaning e una laser soft che sono fiori all'occhiello quest'anno una buona, una buonissima stagione. Intanto le chiedo un commento generale e poi andiamo anche su Claudio Botteghi che è un bravo coach, no? Dicono tutti che... Il nostro preferito, il preferito di tutti, lo sappiamo. No, ma... doppie soddisfazioni... Ora la stagione deve ancora concludersi, però sia prime cleaning che laser soft, insomma, non male. Sono entrambi nei play-off, dunque diciamo che oggi abbiamo... cioè a settembre dovevamo decidere una bella stagione, diciamo che questi erano i risultati che potevamo aspettarci. Dunque siamo molto contenti di entrambi le prime squadre e ci stiamo strutturando come società per fare bene e diciamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, abbiamo dato una bella accelerata per far crescere la società del Rizzone, sì, sicuramente. Infatti mi agganciavo a questo perché quest'anno la squadra almeno nella maschile, mi correggimi se sbaglio, è stata molto rinnovata, no? Consideriamo anche una cosa, che Riccione è soltanto il terzo anno che ha ricominciato a gestire un movimento maschile. Claudio è il secondo anno che con noi, avevamo fatto un altro anno in precedenza e questo ci ha permesso, ed era il nostro obiettivo, di cominciare a gestire anche dei ragazzi giovani nel movimento giovanile dei ragazzi e dunque questo è un obiettivo raggiunto. L'anno scorso abbiamo bruciato un po' le tappe, facendo un super campionato, però ci stiamo strutturando per crescere anche nel settore maschile, sicuramente sì. Da un presidente all'altro, Cristiano Vitali, possiamo dire amarezze, gioie, Project System e figurella, chiedo intanto a Roberto in regia se può già, poi le rimanderemo anche nel punto di Francesco, mandare le immagini intanto della serie C della Project System che non farà i play-off, quindi le chiedo insomma un commento intanto in ordine di categoria sulla serie C e sulla serie D, sia dal punto di vista dei risultati sportivi, però anche quello che ci interessa della crescita delle ragazzi. Certo. Come sempre accade a volte tra preventivo e consuntivo ci sono piccole discrepanze, l'importante è sempre chiudere con il più e io credo che insomma nel nostro consuntivo questo più ci sia. È stata una stagione complicata subito alla partenza per la Project System che ha visto subito l'infortunio di Eleonora Morettini che era, voglio dire, per noi un elemento di grande stabilità anche all'interno della squadra. E, voglio dire, è un campionato che, insomma, ci ha portato ad avere diverse difficoltà per quel che riguarda l'infermeria. Abbiamo consumato, vi garantisco, tantissimo nastro, tanti cerotti. A proposito di consuntivo e preventivo. Sì, esatto. Io parlerei non di metri, ma siamo arrivati forse a qualche chilometro di nastro. Addirittura. Sì, quest'anno è stata molto impegnativa, una panchina che era molto molto corta, quindi Coach Morolli ha dovuto veramente, veramente sudare sette camicie. Un campionato, comunque, che abbiamo chiuso, credo, con dignità al quarto posto, già distaccando, appunto, anche la quinta, appunto tra tanti alti e bassi di questa squadra. Dall'altra parte abbiamo avuto, invece, così, un espload di una squadra della serie D, la figurella, che fin dall'inizio non credevamo potesse arrivare fino a questo punto. Dobbiamo considerare che figurella cambia tre elementi titolari rispetto all'anno precedente. È il quarto anno consecutivo che la serie D va ai playoff e il primo anno vinciamo anche la Coppa Emilia Romagna e abbiamo in quattro anni Gambuti, Bertaccini, Passamonti e di nuovo Gambuti ha avuto, voglio dire, un trend positivo in questa categoria, cambiando tanto. Devo dire che le ragazze sono state brave, abbiamo avuto, naturalmente, qualche vacanza durante qualche partita, ma ci sta in un campionato abbastanza lungo con elementi relativamente giovani. Quindi, ecco, su queste due categorie mi viene da dire che, tutto sommato, siamo stati all'altezza di quanto fatto. merito alla prima della classe, la San Martinese, che ha fatto veramente un gran bel campionato. Anche per noi è stata, sinceramente, una sorpresa. Bellissima squadra, giovane. E, devo dire, un campionato di serie D, anche con squadre molto giovani, è un bel campionato, una bella sorpresa e un campionato di qualità. Sul ritorno mi viene appunto da pensare anche alla stessa unica, con una crescita importante. Quindi, devo dire veramente che molte volte anche le stesse posizioni di classifica non rispettavano le qualità di queste squadre, che, sinceramente, probabilmente con un campionato più lungo avrebbero mostrato ancora di più. E quindi, comunque, un campionato che noi, insomma, ci consideriamo soddisfatti. Nella prima squadra, sicuramente, lo dicevo anche l'altro giorno con i dirigenti, terminiamo presto, perché tutti gli altri anni facendo la birra l'anno scorso, siamo sempre andati ai play-off, cominciavamo così, un po' a ragionare sul cosa fare a giugno. Adesso, trovandoci in aprile, un po' sono anche un po' spiazzato. Ecco, è un po' una novità, per cui avremo anche tempo di lavorare di più insieme a tutti gli allenatori che hanno fatto un grandissimo lavoro, da Morolli a Biselli, passando appunto per Chiara Gambuti e Gianni della Vittoria, hanno fatto veramente tutti un ottimo lavoro. Infatti, volevo coinvolgerti sui due allenatori, Chiara è venuta qui da noi la settimana scorsa, anche sia dal punto di vista tecnico, sportivo, ma anche dal punto di vista del rapporto con i ragazzi, è un vostro, diciamo, fiore all'occhiello, comunque una cosa a cui prestate molta attenzione. Sì, quest'anno ancora di più ci siamo impegnati per, così, avere al nostro fianco allenatori che potessero dare quello spunto, quella vivacità che ci serve, perché abbiamo, così, la necessità, credo sul territorio, penso che sia una cosa condivisa, vedendo e ascoltando anche le trasmissioni precedenti, di avere un volano sul giovanile. Noi abbiamo bisogno di investire tanto sul giovanile, abbiamo bisogno di allenatori che ci sono, di qualità che possono dare, appunto, alle ragazze questa possibilità di una crescita importante. non dobbiamo, io credo che, non è sempre l'erba del vicino quella più verde, noi dobbiamo coltivare meglio il nostro orto e il nostro giardino, per far sì che, appunto, si possa sempre di più attingere da noi stessi e non dagli altri. Torniamo in studio, poi rimettiamo le immagini, perché a proposito di play-off, di figurare di Serie D, abbiamo l'immagine della nuova, dell'avversaria, insomma, dei play-off, per quanto riguarda la Serie D, quindi, Presidente, le chiedo un commento anche sul prossimo step, no? Sospira, sospira! Abbiamo avuto una bella fortuna. Sì. Adesso c'è l'immagine che ci mette Roberto. Allora, tra l'altro, chiedo scusa, Presidente, specifico che la partita si era disputata a casa del volley, sì, perché c'è un altro torneo alla roba. Esatto. C'è un importante torneo a Rimini. Giocheremo la casa del volley, giocheremo alle 21. C'è il turno a Guastalla. Esatto. Guastalla, che è una squadra che avremmo preferito non incontrare. Ecco. Ecco perché il sospiro prima. Sì, perché studiandola un pochino, guardando un attimo questa squadra, abbiamo visto quello che ha fatto fino a Natale e quello che ha fatto dopo. L'arrivo di due ragazze che erano in Erasmus e un palleggiatore che conosciamo bene, perché l'abbiamo incontrato in finale, promozione serie C. Sì. insomma, hanno cambiato molto. I due arrivi provengono da una ex B1. Sì. Quindi sono due ragazze... Era meglio che stavo in Erasmus, insomma, che rimanevano a studiare. Perché sono tornate. Questo Erasmus è finito presto. Buon Natale. Sono due ragazze di grande qualità, due martelli interessanti, hanno un ottimo libero, ripeto, un palleggiatore di esperienza. Una squadra che non ha mai più perso, dando qualità, continuità e risultati importanti nel girone di ritorno. Sarà molto complicato. La sfortuna è stata per Figurella che doveva incontrare da regolamento bagna a cavallo, da classifica, non da regolamento. Ma il regolamento impedisce che due squadre dello stesso girone si possano incrociare. E quindi hanno trovato loro. E poi l'altra cosa poco simpatica è che il ritorno, correggimi se sbaglio, sarà martedì 30 alle ore 21 a Reggio Emilia. Vogliamo aprire un'altra parentesi di queste cose? Perché qui Francesco adesso... L'anno prossimo si mette lui a fare tutti i campionari, con tutti gli orari così. Perché veramente, infatti, dirigente delle altre... Grande pressa, messaggi. Non so a quale pressa fa riferimento. Tiziana e Salvatore. Secondo me a Cristiano. Ah, Tiziana, beh certo, ovviamente. Ciao a tutti. Allora, andiamo un attimo con ordine. Voglio andare da Sanzio sulla... Perché mi ha colpito il discorso della territorialità, che diceva il Presidente di Atena Rimini, il crescere il nostro orticello. Una delle cose che vi volevo chiedere a entrambi, lui ha già risposto, è il fatto della territorialità quanto importante. E penso che anche tu sei... Avalli questo. Assolutamente sì. Come dicevo, nel settore maschile abbiamo proprio creato una prima squadra maschile per creare anche il settore maschile. Nel femminile è già qualche anno che collaboriamo con San Giovanni Marignano, sotto il Marchio Unica, e penso che i risultati sportivi e numerici e di qualità siano evidenti. Abbiamo qui il nostro responsabile tecnico, che sicuramente può dire molte più cose di me, però siamo molto soddisfatti di come stiamo gestendo il giovanile fra Riccione e San Giovanni. Perché si è creata una bella alchimia con Stefano, con Alessandro e con tutti i dirigenti fra San Giovanni e Riccione. Credo che questa possa essere veramente una bella cosa per creare qualcosa di interessante e scorrere le ragazze del territorio, sì. Assolutamente. C'è un messaggio per Sancio. Sancio sei il numero uno. Col cuoricino. Col cuoricino non si firma chi ha fatto il messaggio. No, possiamo risalire, ma dai, adesso senza... Allora, tra poco apriamo la seconda parte con Franco, ma voglio già andare adesso da Franco. Ecco, prima di andare poi nella seconda parte con gli eventi che ci sono stati in questi giorni, la territorialità e anche e soprattutto il campionato competitivo che diceva il Presidente. Si è alzata un po' la competitività? Parlo ovviamente un po' a bravo su tutte le categorie. Certo, certo. Il lavoro delle società e del territorio sicuramente si vede che sta cambiando. Siamo in un momento un po' particolare. Sono tanti cambiamenti per le società sportive dal punto di vista sia diciamo fiscale di gestione che dal punto di vista di tesseramenti con le nuove norme sul vincolo che cadono, eccetera. Quindi sicuramente ci saranno tante cose da affrontare soprattutto nella prossima stagione. Nel mondo della pallavoro suonano molto strane il fatto che non c'è più il vincolo, eccetera. Ma in altri ambiti sportivi questa cosa già esiste da tempo. Quindi ci vorrà diciamo un'evoluzione culturale del mondo sportivo. Cioè dobbiamo cancellare un po' come ragionavamo una volta e entrare in un mondo nuovo. Ma penso che la pallavoro non avrà problemi da questo punto di vista. I numeri parlano chiaro. L'attività del territorio è in aumento dai tesseramenti, dall'attività proprio dei campionati, dell'iscrizione. Questo è positivo anche per quel discorso di territorialità, di trovare atleti che più ce ne sono più è facile trovare il buon atleta nel territorio. D'altronde ci vogliono i numeri perché ce ne trovano tutti di continuo dietro l'angolo. Quindi io come presidente, insomma con la visione che ho, direi che sono molto soddisfatto dell'attività che fanno queste società, che quelle che ci sono sono tutte belle solide con presidenti e con dirigenti che credono veramente nel far giocare i ragazzi. E questa è la cosa principale, è l'obiettivo. Infatti quando vado in Regione e parlo del mio territorio, mi sento sicuro del fatto che sono società che continueranno sicuramente a lavorare. Questo porterà risultati sempre migliori. Per far uscire dalla Romagna quella, non dico campione, campionessa, però quel giocatore... Eh, dopo lì crescono pochi, vengono fuori pochi, però se andiamo in giro a cercare poi li troviamo. Ecco, se li facciamo venire in palestra a giocare a pallavoro qualcuno verrà fuori. E comunque, insomma, ci sono tante squadre che fanno campionati regionali e nazionali nel nostro territorio. Quindi, ok, non abbiamo la Serie A1, quella di punta proprio massima massima, però vuol dire che il territorio, insomma, la media è abbastanza alta. Va bene, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi torniamo, ripartiamo da Franco, ci siamo messaggi perché dobbiamo un attimo parlare anche delle finali nazionali e poi ovviamente con tutto il punto sul campionato i nostri ospiti. Torniamo subito. Torniamo subito. Ecco perché, insomma, vogliamo un attimo velocemente andare sull'evento più importante di oggi, intanto che è stata la presentazione delle finali nazionali conferenza stampa a Cesena nella biblioteca malatestiana, ma prima chiedo a Roberto di mandare le foto del weekend di Sitting Volley perché c'è stata la Rotary Cup con Monica Tartaglione, qui ne abbiamo parlato durante il corso dell'anno. Ecco qua, diamo una carrellata di foto, lascio a te Franco parlare di questo evento che è stato ancora una volta molto partecipato, molto importante, ha vinto Nola in una delle due categorie Silver e Gold. Io sono venuto sabato ad assistere, veramente c'è stato tanto entusiasmo, è un appuntamento sempre importante. Sì, è già il secondo anno che abbiamo l'onore e l'onere di ospitare questo evento. L'anno scorso abbiamo fatto il Cari Sport, quest'anno il Cari Sport non era disponibile. Siamo alla fiera di Cesena, siccome ci sono degli spazi dedicati allo sport, alla palacanestro, al patinaggio e alla ginnastica artistica, ci hanno dato lo spazio per poter montare sei campi da City Volley, dove si sono giocate in contemporanea tutte le partite della fase finale. La Rotary Cup è partita come iniziativa dalla Regione Emilia-Romagna, poi la Federazione Nazionale l'ha sposata e quindi è diventata anche un evento nazionale. Poi Monica aveva spiegato che cos'era, insomma, la parte amatoriale del City Volley che serve per coinvolgere, insomma, attenuti normodotati e disabili, insomma, per poter giocare a City Volley. 28 maggio, 2 giugno, invece, le finali. 28 maggio, 2 giugno. Tanti spunti anche dalla conferenza stampa. C'era il direttore del Volley Club Cesena, c'era anche Lega Ambiente che sarà parte dell'evento. Ci siamo quasi, no? Adesso comincia... Anche se il lavoro per il Comitato FIFA Romagna 1 comincia sempre molto presto. È cominciato già da qualche settimana. Sì, ci siamo quasi. C'è l'ansia che sta montando, visto come era andata l'anno scorso. Sì. Quindi dobbiamo superare questo shock che abbiamo avuto. Quindi dobbiamo riuscire a portare a termine questo evento. Siamo pronti dal 28 maggio al 2 giugno. Si giocherà a Cesena. Le società alloggeranno a Cesenatico. Saranno coinvolte circa 600 persone, fra atleti e dirigenti. E niente, dobbiamo solo... Tutti i giorni guardo le previsioni meteo. Che sia bella. Sta piovendo adesso, per cui speriamo che... Da qua al 2 giugno. Sta facendo l'inverno adesso, perché praticamente sembra inverno. L'anno scorso è stato un brutto colpo. Sì, è stato un brutto colpo. Quindi la federazione ci ha rinnovato, insomma, ovviamente la possibilità di rifare l'evento. Non saremo al Cari Sport, perché purtroppo ci stanno lavorando. È a buon punto, ma sono sempre i dettagli che mancano. E se non c'è l'agibilità è inutile rischiare e andare. Giocheremo al mini palazzetto, che comunque è una bella struttura. Ci stiamo attrezzando. Il 28 maggio al 2 giugno. Claudio, una cosa da allenatore che era uscito oggi dalla conferenza stampa. Questi eventi, Under 14 femminile, insomma, quindi all'inizio della propria carriera, magari si spera lunga. L'obiettivo è farli rimanere a vita, che queste immagini rimangano ai ragazzi a vita. Lo ha detto, mi sembra, Silvano Brusori oggi. Tu da allenatore che vedi ragazzi che sei stato, insomma, anche tu hai fatto il tuo percorso. Sono poi quelle cose che ti ricordi comunque? Ma sì, allora, sì, qualcuna, diciamo, al massimo trofeo delle province, l'ho fatta anche da giocatore, molti anni fa. No, sono manifestazioni molto belle anche perché sei a contatto con i ragazzi della tua età di tutta Italia, quindi anche, se vuoi, vedi il top di gamma della tua età. In più, sei in un'età in cui socializzare è anche molto facile e, cioè, si creano paradossalmente anche legami di amicizia e di conoscenze che poi vanno avanti per tutta la carriera. Quindi, in realtà, sono manifestazioni in cui da giocatore, secondo me, è forse più bello di tutti da partecipare. In più, sono ragazzi di 14-13 anni, stanno fuori quasi una settimana, sono tutte quelle prime esperienze che fai anche proprio dal punto di vista umano. Ah, vivi un sogno quando vai a farlo, ti senti pure un po'. Beh, poi, chi arriva in fondo, finali, sommifinali, c'è il pubblico davvero quasi come se fosse una partita di Serie A, proprio a livello numerico, a livello di rumore. Certo. Che, anzi, forse qualcuno lo vede lì e poi mai più nella carriera, quindi... Esatto, quindi se la gode. Sì, 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 sì. Per i ragazzi, secondo me, sono esperienze molto goderelle, hai detto bene. Se la gode assolutamente. Allora, facciamo un messaggio. Poi andiamo con Tulips e poi andiamo da Francesco perché abbiamo il punto. Andiamo un po' a pedalare. E allora, visto che stiamo parlando con Claudio, buonasera in bocca al lupo a Claudio, a Riccione per i play-off. Cosa ne pensi della sconfitta dalla capolista Bellaria-Viserba? No, vabbè, a parte che era un derby e a parte che anche per Bellaria paradossalmente era una partita che era ininfluente ai fini della classifica. Adesso non so come è andata esattamente la partita. Viserba è sempre una squadra che prima di ammazzarli è fatica. hanno sempre dato a loro una carica agonistica bellissima. Quindi in un derby a mente libera, perché poi in effetti, se anche avessero perso, anche Viserba non cambiava nulla nemmeno a loro. Anche che tra l'altro penso che abbiano fatto, secondo me, il loro campionato al 100%. Sono arrivati subito dietro di noi. E poi, ripeto, in un derby loro sono tosti da affrontare. Quindi probabilmente una squadra a mente libera, una squadra che già era presentata ai play-off, ci sta. Bene, allora direi di andare prima da Tulips, poi andiamo da Francesco. Allora chiedo a Roberto di mandare il nostro spot Tulips e poi torniamo in studio. Bene, tornati in studio, andiamo da Francesco. Per l'ultimo punto della stagione, per quanto riguarda i risultati e il proseguo della stagione per chi la proseguirà. Poi andrò da Alessandro, a proposito di giovani, per parlare anche del progetto Unica, al quale abbiamo già accennato. Francesco? Sì, velocissimo. Partiamo dalla B2. Chiedo scusa a Roberto di mandare poi, quando si parlerà della CED, se lo vogliamo riaccennare, le immagini sempre di Atena. E poi abbiamo anche una classifica da mostrare. Scusa se ti ho interrotto. Per le quali ringraffiamo Fosco, che quest'anno è stato davvero un aiuto prezioso per tutte le volte che ha mandato le immagini, che ha montato e montava a notte tarda, perché tornava e poi le montava. Partiamo dalla B2. C'era a Riccione il derby tra Lasersoft e Emanuele Raggini. Ha vinto, come da pronostico, Lasersoft abbastanza facilmente. 18, 19, 17 parziali. Emanuele Raggini che era già retrocessa in Serie C. Mentre a Riccione basterà conquistare un punto sabato prossimo sul campo del progresso per essere matematicamente prima. L'essere matematicamente prima vuol dire andare a fare i play-off contro la prima del girone E. E in questo momento, Sanfio, correggemi se sbaglio, è Piacenza. San Giorgio, sì. Che è stata quella che in Coppa Italia non erano loro. Chi è che aveva sconfitto? Rossetti perché sono quarti. Che sono quarti. E' un altro Piacenza. Meglio ancora. Mentre Emanuele giocherà... San Giorgio però è primo con un punto di stacco. Sì, quindi sono tre partite dalla fine. Potrebbero... Anche perché ho visto che ultimamente stanno facendo su e giù. Quindi ci sarà da vedere dall'altra parte. Qui da noi invece nel girone F credo che le cose siano abbastanza delineate. Emanuele invece chiuderà il sabato con Cervia. Andiamo in Serie C. Good Chemical, Bellaria, Batteli, Verani 3-0. Di Project System abbiamo già detto il 3-0 contro l'Accademia Manu Benelli. Perde anche Cattolica 3-2 con la Libertas Forlì. E per i play-off Bellaria giocherà contro la Persicetana che ha conquistato 52 punti contro i 54 di Good Chemical Bellaria. La prima partita sarà questo sabato, quindi sabato 27 aprile, alle ore 21. O almeno così è stato scritto nei documenti ufficiali. In Serie D invece le partite importanti si giocavano su due campi. Uno era quello di Figurella perché Figurella Titan Service vinto da Figurella 3-1 era importante perché con questi tre punti Figurella è arrivata prima tra le seconde. L'altra partita fondamentale si giocava a Bellaria tra idea volley e unica perché in paglio c'era la salvezza. Alla fine ha vinto Bellaria 3-2 ma con i due punti conquistati dalla squadra di Passamonti e da unica che ha conquistato un punto si sono salvate entrambe. Non so se Roberto riesce a metterla. C'è anche la classifica a Vulsa generale perché la squadra che poteva invece impensierire sia Bellaria che unica, eccola, questa è la classifica a Vulsa generale, in realtà ha perso e quindi è retrocessa lei come diciassettesima. Abbiamo già detto dei play-off di Figurella quindi non sto lì a ripeterlo. Invece in Serie C la Prime Cleaning giocherà sabato 27 la gara in casa contro il Sogliera, giusto? Esatto. Perché poi ci sarà il ritorno il sabato successivo con il Golden 7 in caso le due squadre fossero pari. Dall'altra parte invece giocheranno Rainbow contro Isorec e Parma mentre Bellaria farà il suo esordio nel gironcino all'italiana sabato 4 maggio in casa contro Marconi e Reggio Emilia mentre il sabato successivo giocherà sul campo della Paolo Poggi. Le prime due squadre saranno promosse direttamente in Serie B mentre la Terfa andrà a giocarsi la finalissima con la vincente delle altre quattro. Molto, hai chiuso perfettamente. Claudio, una battuta veloce sulla prossima partita. Allora, intanto ringrazio la squadra femminile nostra che ci presta al palzetto sabato perché disputiamo l'incontro alle ore 19 alla palestra della scuola Fontanelle che quindi è anche un bel palcoscenico da quel punto di vista, un bel teatro. Giochiamo contro Sogliera che è arrivata seconda del girone B tra l'altro si è giocato il posto fino alla fine per il secondo posto perché la prima Paolo Poggi ha vinto, come mi sembra, con due giornate di anticipo. Sono una squadra esperta, quindi in quello ci equivaliamo. Hanno Bertoli, schiacciatore, che è il figlio del... Franco. Esatto, figlio. Un ragazzo che ha fatto anche, secondo me, la... credo anche un po' di A2, quindi insomma... Matteo Bertoli. No, Emanuele si chiama. Forse non è il figlio, allora. No, non lo so, però direi che il nome è la garanzia. La molle di attacchi la prende lui, quindi... No, magari non fosse un figlio perché quello che dico io ha giocato anche in A2. E mi sa che è Matteo. No, speriamo. Puoi sbagliarmi perché adesso... No, sarei contento se hai detto che lui è un problema. Poca l'embo. No, comunque... Vabbè, adesso quello lo scopriamo sabato, dai. Adesso video... Perché al nostro livello reperire i video è un problema, onestamente. Non tutti sono organizzati e quindi adesso uno l'ho trovato, spero, di trovare indicazioni a sufficienza, ecco. Va bene. Posso fare, scusa, un'ultima potuta? Volevo dire, sto trovando sul territorio per continuare con i presidenti molto appassionati. È una cosa bellissima, secondo me, dal tuo punto di vista. Io i miei li conosco, ma vedo anche quelli delle altre società che ci stanno mettendo anima e cuore ed è il modo per far crescere la passione poi nei ragazzi. Anzi, uno è proprio il vostro, no? Giuseppe, dopo decenni che è presidente di una società storica, penso che ha dimostrato in questi anni tutto il suo valore come persona e come sportivo. E dopo decenni, però, l'entusiasmo, la chiave è sempre quella, resta inalterato, no? Certo. Veramente dopo decenni, sabato dopo la partita, stava pulendo la palestra con tutti i diritti. Questo è anche un esempio non normale. Quindi, per dire che si mette in atti... Allora, abbiamo un po' di messaggi. Prima volevo fare, come dicevo, una valuta con Alessandro, poi torniamo anche dal presidente di Atena, per il progetto Unica e a che punto siamo, crescita e... Allora, intanto mi sento di fare un ringraziamento grandissimo alle persone che hanno lavorato con me quest'anno, perché il progetto Unica non è fatto da una persona o due persone, è fatto da un sacco di persone, ma il ringraziamento più preciso va alle ragazze che hanno condiviso la squadra di Serie D, perché le abbiamo veramente maltrattate. Maltrattate in senso sportivo, ovviamente, ma abbiamo creato tutte le condizioni che si possono creare nell'alto livello. Quindi abbiamo creato la pressione, per quando c'era, abbiamo lasciato loro la possibilità di arrabbiarsi, per quando c'era, qualcuna ha scelto anche altre strade ad un certo punto, ma siamo arrivati in fondo, abbiamo fatto le ultime sei o sette partite in cui c'era tantissima pressione. Noi ci dovevamo salvare. Nell'alto livello ti danno un obiettivo e tu lo devi raggiungere. Quindi qualsiasi cosa ci succeda, tu lo devi raggiungere. E la partita contro Bellari è stata una partita straordinaria. Tra l'altro il quinto set è stato giocato dall'Under 16. Non mi ricordo se siamo arrivati 15 a 11, 15 a 12, 15 a 10, però c'erano tutte le giovanissime in campo, tra parentesi, come tutte le società, con qualcuna che le ultime settimane è andata in gita per una settimana, soprattutto le più grandi, queste cose qui. Quindi da questo punto di vista siamo sicuri di poter fare ancora un passo avanti. Cominciamo, e questo è il risultato di Unica, ad intravedere delle individualità che in un modo o nell'altro si potrebbero affiancare a squadre di più alto livello. Non dico che abbiamo raggiunto i primi obiettivi, perché non è ancora vero, però cominciamo a vedere la luce del lavoro dei tre anni, da un progetto sperimentale ad un progetto allargato a comunque il raggiungimento di un campionato regionale da parte di Under 16 e Under 15 titolari. Tra l'altro a proposito di Under 16, lo dicevamo prima, volevo sottolineare questa cosa perché nel suo girone, nel girone B, tutte 18 le varie disputate vinte con 54 punti senza perdere un set. Allora, questo gruppo è un gruppo che fondamentalmente fa tre campionati. Sono due gruppi che fanno tre campionati. Fanno l'Under 16, la prima divisione e la Serie D mescolate. Chiaramente la Serie D è fatta anche di giocatrici più grandi di 16 anni. C'è 7, 18, 19. La più grande è la 2004. Il campionato di Under 16, territoriale, è stato un campionato in cui ci sono state delle belle partite, proprio con Atene per esempio, e altre partite probabilmente in cui i livelli sono davvero tanto, tanto diversi. Ma cambia proprio la tipologia di obiettivo, secondo me. C'è qualcuno che si è iscritto a questo campionato con l'obiettivo di arrivare il più in alto possibile e qualcuno per fini totalmente sportivi, per giocare, ludici, così. Tante vittorie e l'obiettivo era proprio quello. In alcune partite siamo riusciti a fare girare tutti addirittura, pur comunque continuando a vincere. Adesso il bello deve ancora venire. Il 27 giochiamo la gara di Final 8 e poi, se va tutto bene, la Final 4 è il primo di maggio. Però sicuramente l'obiettivo di Unica era portare nelle prime quattro posizioni le squadre in tutti i campionati in cui abbiamo partecipato. In Under 14 ci siamo arrivati secondi, tra l'altro con una squadra molto forte davanti, quindi faccio i miei complimenti a Forlì che ha fatto una grandissima partita. In Under 13 siamo lì che, insomma, ci stiamo pensando, la 16 lo stesso. Secondo me anche quest'anno il percorso di Unica è stato positivo, ma direi anche abbastanza lineare e non partivamo da favoriti. In Under 16 probabilmente sì, in tutte le altre categorie sicuramente. Credo meglio di così, non si può. Allora, coinvolgiamo il tuo presidente, che c'è anche una domanda. Allora, intanto c'è un messaggio di Fosco. C'è un messaggio di Fosco che ringrazio anch'io. Poi alla fine della puntata dobbiamo fare un elenco di ringraziamenti di Fosco. Perché c'è sempre stato. Abbiamo mostrato sia C che D e mi auguro. Tutte le immagini che ci hanno mandato, tutte le cose per cui si è scritto. E poi ho scritto anche una cosa carina. Non potevo avere di meglio. I miei due grandi presidenti. I miei due grandi presidenti. Per il presidente Vitali c'è una domanda molto interessante. Allora, qui è importante attenzione Cristiano. Cristiano, ci prometti che l'anno prossimo Federica Colombo allenerà ancora l'Under 16? Si merita un campionato da protagonista? Glielo dobbiamo. Probabilmente sarà qualche sua atleta, una delle tue allenatrici. Diciamo che Federica Colombo sicuramente farà parte ancora del nostro gruppo di allenatori. Anche lei lo sa adesso. E se aveva altri progetti, Fede, no? Chiedo di pensarsi. Per quel che riguarda cosa farà, lo decideremo insieme perché dobbiamo vedere un attimo tutta la struttura organizzativa della società dal punto di vista tecnico. Quindi mi affido poi un attimo al consulto dei grandi sazzi che ho all'interno come tecnici. Quindi, però, Federica Colombo rimarrà con noi. Ok. Volevo chiedere una cosa. Io la settimana scorsa abbiamo avuto Anna D'Angelo di Apprise, giovanissima. E quindi, in parte, ma già risposto, accennavamo i giovani. È molto importante farlo crescere questo settore giovanile. Ci sono i direttori sportivi, ci sono gli allenatori. Da presidente che cosa addocchia e in che misura ha modo di vedere le ragazze e cosa capisce? Dunque, questo è stato, ecco, fra quell'indice positivo che dicevamo prima c'è anche questo. Cioè, quest'anno abbiamo avuto soddisfazioni dall'Under 16 che purtroppo però ha perso due elementi di punta, il palleggiatore e l'S1 subito, con anche infortuni importanti, ginocchio e spalla, che però ha dato comunque continuità, un lavoro già fatto valorizzando quegli elementi che fino ad oggi avevano giocato un po' di meno. Anna appunto già calca il campo di categorie superiori, si allena anche con la Serie C, come avete visto, vi ho detto l'altra volta. Ci sono, ecco, anche altri elementi che sono un pochino emersi, voglio dire, un po' anche con nostra sorpresa. E infatti quest'anno abbiamo avuto anche l'onore di avere tre ragazze all'interno delle selezioni, quindi per noi nota positiva, nota importante, nota che comunque anche a livello di Anders stiamo cercando di lavorare. Noi abbiamo dei numeri che sicuramente sono molto importanti sul territorio e sono numeri che però vanno anche gestiti con persone che appunto si danno molto da fare e sanno, voglio dire, come intervenire nei vari gruppi. Ok, non abbiamo mandato le immagini della Serie D, giusto ci dicono dalla regia? Ok, rivediamo se riusciamo a recuperarle della figurella. Volevo, c'è un messaggio ancora per... Sì, c'è un messaggio che sicuramente però nessuno ci darà una risposta ovviamente. Sì, lo chiediamo Francesco, sì. Ma non ci dite niente di Giulia Saguatti? Forza, oh ma che metti. Beh, l'altra volta ne abbiamo parlato, ne abbiamo fatto un accenno, no Francesco? Non si sa assolutamente nulla, non trapela nulla. Io credo che la dirigenza fosse concentrata tutta sul sestetto e adesso si inizierà a pensare anche tra virgolette a chi si dovrà sedere in panchina. Io credo che Saguatti, come dicevo l'altra volta, per gli otto anni... Ecco qua intanto le immagini della D, vai tu, non è Francesco. Sì, della figurella di Serie D. Dicevo, io penso che il presidente Manconi prenderà la decisione migliore. Saguatti sicuramente a San Giovanni in Marignano è un'istituzione, ha segnato la storia di questa società, arriva da un infortunio abbastanza pesante, però da quanto so i medici sono molto ottimisti perché sta bruciando, e non avevo dubbi, conoscendone il carattere, sta bruciando le tappe. Quindi io mi auguro che Saguatti venga confermata, però bisogna capire cosa vuol fare il nuovo allenatore, non tanto la società quanto il nuovo allenatore. Ok, abbiamo degli altri messaggi? Sì, le tue giocatrici ti salutano, Cristiano, un saluto al nostro presidente, Cristiano, ovviamente sottolineano. Dal punto di vista dei nervi, come si prepara il playoff? Non siamo ovviamente in A1, però anche i coach dovranno essere, dato che abbiamo visto le immagini prima, dovranno essere bravo anche in quello, e adesso è da dentro fuori. Sì, esatto. Innanzitutto devo dire che in Serie D ho uno staff, secondo me, di livello, perché avere Chiara Gambuti, Gianni della Vittoria, due dirigenti come Cosimo e Guido, che sono sempre presenti, è una cosa importantissima. A volte io non conosco palcoscenici così importanti come quelli della A, però credo che anche nel nostro piccolo sia importante questa nostra presenza, questo legame che abbiamo attorno alla squadra, che si crea in un momento dove comincia un altro campionato, perché comincia veramente qualcosa di totalmente diverso, qualcosa che non conosciamo, con tensioni che probabilmente, appunto come diceva prima anche Alessandro, con tensioni che probabilmente qualcuno ancora non ha avuto, non ha maturato, non ha avuto l'occasione di arrivarci. Ecco, arrivare a tutto questo non è da poco. Devo dire che, appunto, anche nella fortuna di tutto questo, Chiara Gambuti è una che questo passaggio, a parte l'anno scorso, l'ha fatto negli ultimi, penso, mi sembra cinque anni. Quindi, ecco, arrivare anche in questo tipo di percorso non è assolutamente banale, perché comincia tutta un'altra cosa. Ok, volevo chiudere con Sanso e con Franco, a proposito della riforma, diciamo, Sanso prima delle società, anche della riforma del lavoro sportivo. Mi incuriosiva capire, da direttore sportivo, l'impatto di queste nuove norme. Beh, l'impatto è stato importante. La riforma dello sport, i contratti sportivi, gli svincoli. Tavamo prima fuori onda. La società sportiva di Palavolo non è più possibile gestirla come si gestiva anni fa. Adesso dico una frase che... Io non sono nato con la Palavolo, sono arrivato da Palavolo da qualche anno, ma le prime cose che mi hanno detto è stato arrivo e cambiare quello che abbiamo fatto da trent'anni. È una frase, scusa di interroppo, ma è la classica frase all'italiana, eh? Si è sempre fatto così, allora facciamo così. Però sì, decisamente sì. Il mondo cambia. Cambia da un punto di vista fiscale, gestionale, di trattamento, come se i ragazzi stessi cambiano la vita dei ragazzi. E devi per forza strutturare la società di Palavolo, adesso perché parliamo di Palavolo, ma come sta andando, come sta cambiando tutto il movimento della vita quotidiana. Perché una società sportiva, dicevamo prima, non può essere... una volta c'era il classico presidente che faceva tutto lui. Ora non può più esserci una cosa del genere. Una società deve essere sempre più un'impresa, deve esserci un organico, un organigramma, dei compiti e ognuno deve fare il suo per portare avanti una società sportiva a livello di impresa. Perché non puoi più gestirla in maniera amatoriale. Lasciatemi passare il termine. Vado ragione, aggiungo due cose a senso, perché ogni tanto ci si sente fra società e quest'anno è stato uno dei lavori più grossi che ha appesantito le società e che ci ha tanto distolto da altre attenzioni. La riforma dello sport è stata una cosa utile, una cosa necessaria, una cosa che sicuramente va giustata, però ha appesantito tantissimo il lavoro delle società. Sono aumentati tantissimi i carichi per noi, sono d'accordissimo con quello che diceva Sanzio, e ha aumentato anche, voglio dire, una sorta di costi, perché il presidente deve guardare anche quello, perché consulenze tra avvocati, commercialisti, in tutto questo, oggi sempre di più una società per resistere deve andare avanti in questa direzione. E dal punto di vista numerico, parliamo anche con un amico legato al CONI, mi diceva, sono tante le partite IVA delle società che non ci sono più da quest'anno. Voglio chiudere con una battuta velocissima con Franco, integro con questo, perché oggi Maurizio Morganti mi diceva, magari per le società più strutturate è più semplice questo passaggio, per quelle meno strutturate. Sì, esatto, le società che già hanno una struttura, il passaggio è stato pesante lo stesso, ma essendo preparato ognuno con un ruolo, quindi chi ha affrontato le varie problematiche, insomma, l'ha cercato di imparare e portare avanti. La federazione, in questo caso, ha fatto tanti corsi per i dirigenti, proprio perché come federazione siamo consapevoli che la prima cosa a cui dobbiamo andare in conto è la dirigenza, cioè le società ci sono, va bene gli atleti, va bene l'allenatore, non voglio sminuire altri, ma se non c'è un presidente che si prende le responsabilità, tutto il resto non c'è. E questo è il lavoro da fare, la formazione dei presidenti che ci sono adesso, la formazione di nuove figure dirigenziali all'interno della società, che vanno formate col tempo. Un'altra cosa che ho notato, questo cambiamento ha portato comunque tante società, me lo diceva prima, che si sono parlate e si sono confrontate per come affrontare i problemi. E questo è il futuro, secondo me, di tutto. Finché le società, i presidenti, si parlano e si confrontano, possono scambiarsi le idee, possono cambiarsi le proposte, questo sia a livello dirigenziale, come fanno gli allenatori quando parlano fra di loro dal punto di vista tecnico. La stessa cosa deve avvenire dalle società e la federazione, diciamo, oltre ad organizzare i campionati, è questo il suo compito, cioè favorire e agevolare lo scambio fra le società e i presidenti. Siamo in chiusura. Sì, stanno bombardando, bombardando i messaggi. Non riusciamo a leggere tutto. Ma Sanzio sei magico. Zanchi cos'è che c'era? Un'istituzione, il divino e quant'altro. Eccetera. Allora, io direi di fare così. È un'ultima cosa, però, che ci invitano, e lo dicono sempre tutti gli anni, e le ragazze sempre della Colombo, che è la mia migliore amica, quindi faccio un appello. Fede, ti vogliono a Icaro TV l'anno prossimo. Quindi cominciamo a prenotare i primi posti e i primi ospiti. Però è visto con questo parterre quanta gente che scrive. Si scatena. Ma è stato l'ultimo palo di puntata e mi hai chiuso col botto con i messaggi. Allora, ti chiedo, Federica, di fare intanto il giro dei saluti dei nostri ospiti, prima di tutto. Salutiamo Francesco, che quest'anno ci ha dato un aiuto preziosissimo con i suoi campionati, con tutto il suo punto. Grandissimo. Francesco Barone, giornalista del Ponte Corriere di Romagna. Buonasera a tutti. Posso ringraziare te, Stefano, te, Federica, Roberto. E faccio un appello a tutte le società di pallavolo, non solo riminesi, ma romagnole. Sostenete la pallavolo, perché se per caso alcune telecamere si spengono, sulla pallavolo poi le luci rischiano di spegnersi. Ottimo. Beh, così. Claudio Botteghi, coach della Prime Cleaning Riccione, facendo in bocca al lupo. Grazie, Claudio. Ha aperto e chiuso i carovoli. È vero, è vero, hai ragione. La prima puntata e il 23. Ma lui è il nostro pezzo da 90, l'abbiamo detto tante volte. Grazie, grazie Claudio. Poi ringraziamo Sanzio Sacchetti, direttore sportivo del Riccione Volley. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, presidente, direttore. Franco Manuzzi, presidente del comitato FIPA per Romagna 1. Salute a tutti. In bocca al lupo, Franco, alla prossima. Cristiano Vitali, presidente dell'Atena Rimini, insomma anche a te. Grande piacere. Grazie, buonasera a tutti, grazie. E poi chiudiamo in bellezza con Alessandro Zanchi. Insomma, dipende. Vice allenatore dell'OMAG-MT, allenatore e coordinatore di Unica Volley. Grazie, Alessandro. Grazie a tutti, grazie a voi e grazie per aver parlato per una stagione intera di pallavolo. Siete stati gli unici, ma siete stati anche molto, molto competenti. Grazie. Bene, grazie. Allora, abbiamo già finito. Una piccola lista di ringraziamenti. Oltre a Fosco, che dobbiamo ringraziare anche in veste di comitato FIPA Romagna 1, perché ha anche ruolo nel comitato. I registi, voglio ringraziare che si sono alternati, Diego, Roberto e Mirko. Penso di non aver dimenticato nessuno perché sono loro tre che si sono alternati. Stasera c'è Roberto, ma naturalmente anche Diego e Mirko grandissimi. Tutti gli ospiti che sono stati qua, quindi idealmente li ringraziamo tutti, dalle giocatrici, le società, ovviamente giocatrici, ovviamente Lomag MT, Consolini Volli, che è stata grande protagonista della nostra trasmissione. Tutti gli ospiti, appunto tutte le società, tutte le squadre che ci hanno portato i loro giocatori, i loro dirigenti e che ci hanno soprattutto seguito e sostenuto il comitato FIPA Romagna 1, che insomma è parte integrante della nostra trasmissione. E poi devo ringraziare una persona con il caschetto, i capelli rossi a caschetto, che si chiama Federica Pappacena. Grazie a te, è stato molto bello quest'anno, veramente. Speriamo che il prodotto sia piaciuto, è possibile, come ripeto, che torneremo poi per una puntata che riguarderà il periodo playoff. Ringrazio, io voglio ringraziare anche Icaro per avermi dato la possibilità di insomma anche un po' entrare in questo mondo che per me è stata un po' in realtà. Mi vado bene però, ti sei appassionato, assolutamente. Ho cercato di fare il massimo professionalmente parlando, ringrazio ovviamente te Federica perché senza te Francesco ovviamente non ce l'avrei fatta. Siamo in chiusura, vi lasciamo a cosa avviene dopo. Ci scende una lacrimuccia quasi. Ma sì, una lacrimuccia quando ci si saluta. Poi finisce, siamo al 23 aprile, finisce presto. È vero, c'ha ragione Cristiano, siamo troppo presti. Esatto, esatto. Ovviamente rimanete su Icaro TV e con Icaro Voglio ovviamente penso e spero che ci vedremo nella prossima stagione. Ringrazio ancora tutti gli ospiti in studio, vi lascio ai programmi dello sport che segue il nostro martedì sportivo. Grazie ancora Federica, grazie a voi che ci avete seguito. Buona serata. Icaro Volley è stato offerto da Appiustudio, Archigest Consorziologica, Bike Service, CIBE, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erbavita, Gruppo Marcar, Isolcasa, Italia De Pura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Cappannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR, Luce e Gas, Rose & Crown, La Cappa,